Dopo aver sofferto una serie abbattuta d'arresto nella partita contro il Galles, la Francia si presentava a Edimburgo rinnovata con sette cambi. Molti giocatori infortunati come Fofanapa, Radius, Atouard, Nyanga e Ljuspi Kamol fuori anche lui per aver dissentito con l'arbitro a Cardiff. Avendo vinto 14 dei 15 brevi incontri con la Scozia, i francesi notivano ancora la speranza che una vittoria avrebbe mantenuto accese le speranze di conquistare il titolo di campioni. Gli scozzesi, forti della loro vittoria contro gli Azzurri a Roma la volta scorsa e con il loro capitano Kelly Brown in campo fin dall'inizio, avevano operato altri due cambi, Jeff Cross e Dave Tendon, mentre Fusaro, Lowe e Wilson figuravano tra le riserve. I padroni di casa non battevano la Francia dal 2006 e furono gli ospiti che preso l'iniziativa fin dall'inizio. Quando l'arbitro Chris Pollock ha penalizzato la mischia scossese al secondo minuto, ha dato la possibilità a Maxime Mecheneau di far segnare i primi tre punti per la Francia. Il mediano di mischia del Racing Metro ha calciato accuratamente dando il primo vantaggio alla squadra di Saint-André. La Francia ha il stesso tale vantaggio 6-0 al decimo, quando Scott Lawson è stato penalizzato proprio direnza ai pali. L'entusiasmo dei tallonatori ebbe il sopravvento sullo scossese e Mecheneau, che segnò 15 punti per la sua squadra lo scorso weekend, non poteva fallire da lì. Un buon inizio per gli ospiti, ma la Scozia si rifece subito dopo. I padroni di casa hanno potuto ringraziare l'estremo Stuart Hogg, che iniziò e portò a compimento l'azione, lanciando una palla alta verso la linea francese, e quando Joanne Huget e Briste Hulain non riuscirono a bloccare la palla, il numero 15 continuò e mise la palla a terra. L'arbitro chiese l'ausilio del TMO per confermare che Hogg avesse messo la palla a terra e dopo varie analisi è stato decretato che la meta era regolare e così la Scozia ha potuto festeggiare la sua prima meta della stagione. Craig Ledylow trasformò i due punti dando un vantaggio alla sua squadra di 7 a 6. Al sedicesimo i francesi erano di nuovo in vantaggio 9 a 7 grazie alla precisione di Mecheneau, ma pochi minuti dopo la Scozia dominava ancora una volta con una seconda meta. Matt Scott ha passato la palla all'ala Tom Seymour e il giocatore nato nel TNC ha fatto registrare una meta favorosa. Un importante momento per lui, anche se Alex Jumbar poteva essere penalizzato per avere bloccato Jules Plisson nello svolgimento dell'azione. Ledylow aggiunse i due punti e così la squadra di Scott Johnson si è trovata in vantaggio di 14 a 9 a metà tempo. Cinque minuti dopo la ripresa, con gli scozzesi dentro i 22 metri francesi, Duncan Veer tentò un passaggio allargato che venne intercettato bene da UJ. l'ala francese corse per 80 metri verso la linea scozzese segnando una meta che riportò la Francia in partita. UJ così ha aggiunto un'altra meta alle due già segnate contro l'Inghilterra in pastura del campionato. Prima di questa, quattro delle sei mete francesi di questa stagione hanno avuto origine dalla loro metà campo. Un bel colpo per la Francia, che gli scozzesi hanno risentito. Ma Chenot mise la palla tra i pali, portando la Francia a 16 a 14. Dopo che Ledylow fallì l'opportunità di un penalty, i calci vennero affidati a Veer, che al 62esimo portò di nuovo in vantaggio la Scozia a 17 a 16 in una partita con continui cambiamenti di fronte. La grande folla di Edimburgo presegiva che una seconda vittoria in questo campionato era possibile. A sei minuti e mezzo dalla fine, quando l'arbitro neozelandese penalizzò la mischia francese, Vira ha avuto la possibilità di allungare il vantaggio dei padroni di casa, ma questa volta il suo tiro è stato impreciso e l'occasione è sfumata. Ne trasse coraggio la Francia e cominciò a premere per la vittoria negli ultimi minuti. Quando gli ospiti si trovarono nel settore del drop goal, Tim Swinson è stato forse penalizzato un po' drasticamente nel suo placcaggio. Ma Chenot era stato sostituito ed è toccato a Jean-Marc Dussain di portare la Francia di nuovo in vantaggio. La folla non è stata felice con la decisione dell'arbitro. La pressione sul sostituto era enorme, ma con calma Dussain riuscì a mettere la palla tra i pali facendo registrare sul trabellone 17-19 per la Francia, quanto mancavano pochi secondi alla conclusione. La Scozia ha vinto in zona cesarina a Roma. La Francia ha fatto lo stesso a Edimburgo. Gli scozzesi non hanno avuto più tempo per reagire in casa loro. La Francia invece con questa vittoria tiene accese le speranze per una vittoria del campionato RBS 6 nazioni. Dovrà vedersela con l'Irlanda a Parigi in una partita che si preannunzia da giganti la settimana prossima. La Scozia incontrerà invece i gallesi a Cardiff con il cruccio che si è lasciato a sfuggire una buona occasione. Risultato finale a Edimburgo. Scozia 17, Francia 19. Grazie a tutti.